Siamo all'attere delle conferenze, Francesco ti volevo fare una domanda su quello che avete detto prima anche sul palco, questa idea della geolocalizzazione che con il 5.0 in qualche modo c'è e non c'è, molto interessanti i concetti che avete espresso, anche i concetti di digitalizzazione che spesso sfuggono poi alla mente umana, è come se si fosse andato un po' troppo avanti forse. Sì, il futuro dà sempre questa impressione, dà l'impressione di una frontiera che sposta sempre in avanti il suo, il proprio orizzonte, ma ha ragione oggi che viviamo un'epoca di cambiamenti epocali, Papa Francesco la definisce un cambiamento d'epoca che non ha precedenti per intensità, portata, velocità delle trasformazioni in atto, trasformazioni che come dicevi tu stanno costruendo quasi una nuova percezione della realtà, una percezione che si alimenta di un continuo sforzo di trespassing tra reale e immaginario, tra fisico e digitale, tra buono e giusto e ciò che non è buono e giusto. Momenti come questi invece servono a riflettere sui fondamentali, servono a capire, come diceva Perich, dagli Atenesi, che bisogna essere filo sofuntes e filo caluntes, cioè pensatori e costruttori del bello. La bellezza anche di Dostoievski genera armonia, genera equilibrio, quell'equilibrio genera giustizia sociale, la giustizia sociale genera transizioni sostenibili, crescita sostenibile, è un modello di sviluppo che ha bisogno di essere corretto e di sanare e correggere le grandi disuguaglianze che ha generato negli ultimi 50 anni. Ecco, la vostra società, il vostro impegno, il vostro lavoro come entrano in un contesto di questo genere, una biennale dello stretto che dialoga con progettisti, architetti, fotografi, aziende, i vari player, stakeholder, chiamiamoli come vogliamo, a me piace molto di più l'italiano, ove possibile, come diceva un mio vecchio editore, però come li può aiutare e poi, come può aiutare, come può essere strategica una vostra presenza qui e poi come aiutate le aziende a lavorare sul concetto di economia circolare, di tutto quello che abbiamo sentito dire, cioè il 5.0. Sì, noi stiamo realizzando uno dei più grandi campus per l'innovazione del Mediterraneo e dell'Italia, un articolato ecosistema per l'innovazione, laddove la parola ecosistema è utilizzata nell'accezione più autentica, un ecosistema che si alimenta della propria biodiversità e in quanto biodiverso è capace di generare valore e quindi accompagniamo le imprese, i territori e i vari stakeholder, per dare una parola in inglese, in questi processi di transizione, ma lo facciamo provando a coniugare azione con pensiero, riflessione etica, filosofica, sociologica con trasformazioni industriali, provando a far convergere, a coniugare scienze sociali, scienze umanistiche, scienze etiche con le scienze computazionali e tecnologiche. Il mondo oggi ha bisogno di senso, non ha bisogno solo di tecnologia, la tecnologia c'è, addirittura ce n'è tanta, ce n'è in sovrabbondanza, c'è addirittura il rischio che la sovrabbondanza della tecnologia generi una realtà aumentata anche dell'umano che faccia perdere all'umano il proprio cuore di uomo, quindi abbiamo bisogno di accompagnare questi processi non solo iniettando competenze tecniche, ma anche donando senso e direzione a questo processo di trasformazione epocale. Posso fare un'ultima domanda, cioè proprio telegrafica, esiste una via italiana a questo che hai raccontato o c'è per forza un linguaggio internazionale, transnazionale? Non solo esiste, abbiamo il dovere di testimoniarla e di diffonderla. L'Italia costruisce il nus di questo sapere. Io amo dire spesso che essere innovatori italiani oggi nel mondo significa essere quasi dei mistagoghi, degli asceti, quello delle persone che salgono all'ultimo piano, laddove cielo e terra si incontrano, si toccano per poi ridistribuire quella sapienza acquisita a coloro i quali invece l'hanno smalita strada facendo. Noi non dobbiamo importare il modello della Silicon Valley, dobbiamo contaminare la Silicon Valley con la nostra tradizione classica, umanistica, etica, filosofica e illuminata. Grazie. Grazie a te.